Onorevole Deli ha facoltà di replicare. La più la guerra sarà prontata, la più quell'Ukrainiano si morirà. E potrebbe sembrare radicali, ma l'antworto a la guerra non è più la guerra, è paese. E paese non è ricevuto dalla barra di una guna, è ricevuto dalla diplomatica, dalla dialogazione. Tu puoi spiegare il tuo continente di storia, ma noi shareiamo un continente con Russia. Siamo assicurati con Russia, ci sarà un paese negativo, e questa organizazione dovrebbe promuovere la prima, invece di farlo e assicurare che più Ukraini dieci. Il tuo feigno di simpatico ringe hollow. Mi fa sentire, sinceramente, con te. Grazie molto. Grazie. I'm afraid, Mrs. Daley, we've given you the opportunity to reply. So, let us try and stay calm.